Buongiorno a tutti, sono Paolo Barasso, un appassionato del mondo finanziario con oltre dieci anni di esperienza nel campo dei dati. Non sono un consulente finanziario, ma il mio obiettivo è fornire strumenti che vi aiutino a prendere decisioni informate. Molti video su YouTube sulla finanza offrono spunti interessanti agli investitori, ma pochi forniscono gli strumenti necessari per riprodurre e replicare le analisi in modo autonomo. Il mio scopo è condividere i risultati a cui sono giunto insieme agli strumenti quantitativi utilizzati, in modo che voi possiate svolgere analisi in completa autonomia in maniera efficace ed efficiente. Durante il video condividerò alcune slide con analisi specifiche e il codice utilizzato. Ci immergeremo nelle metodologie statistiche e nel codice presente in Google Colab. In sintesi, il mio obiettivo è fornirvi gli strumenti necessari per prendere decisioni finanziarie informate, offrendo analisi riproducibili e il codice sorgente utilizzato. Nel corso del video esploreremo un concetto chiave della Modern Portfolio Theory, ovvero la frontiera efficiente, e faremo un backtest della strategia che massimizza lo sharp ratio negli ultimi vent'anni. Facciamo ora un esempio contro l'ETF. Il TLT, che rappresenta un ETF obbligazione allo statunitense a 10 anni, GDL, che è il ticker sull'oro, e SPY, che rappresenta l'SP500. Notando i ritorni cumulati dal 2010, si nota la relazione inversa tra l'ETF azionale statunitense e gli altri due ETF. Questo si nota soprattutto nella crisi del Covid durante il 2020, quando, a marzo, mentre l'SP500 raggiungeva il minimo, il TLT raggiungeva il suo punto massimo. Anche l'oro, essendo un ottimo bene rifugio, è stato un ottimo momento su cui diversificare nelle varie crisi. L'oro è spesso considerato un bene rifugio e una protezione contro l'inflazione. La relazione tra l'oro e l'inflazione è basata sul fatto che l'oro è considerato un'assicurazione contro la perdita di valore della valuta, a causa dell'aumento dei prezzi dei beni e dei servizi. Quando c'è un aumento dell'inflazione, il valore della valuta tende a diminuire, mentre il prezzo dell'oro tende a salire. Ciò avviene perché l'oro ha un valore intrinseco che è indipendente dalla valuta e può essere considerato un bene tangibile. Arriviamo quindi alla crisi del 2022, dove tuttavia la diversificazione non ha premiato, dato che c'è stata una riduzione dei tassi da parte delle banche centrali, e quindi una riduzione del prezzo delle obbligazioni. Sulla destra invece si vede la correlazione di questi TF negli ultimi 10 anni, che vede un'assenza di relazione tra oro e SP500, e una relazione inversa tra obbligazioni a lungo SP500. In queste slide si vede il calcolo della frontiera efficiente considerando questi tre TF. Nella slide si vedono tre punti in blu relativi ai tre TF, dove l'SP500 ha rendimento più alto e volatilità più alta, in alto a destra, mentre l'oro e l'obbligazionario hanno rendimento e volatilità più contenuta. La metodologia sfrutta proprio la correlazione inversa di questi due ETF rispetto all'SP500, il cui portafoglio ottimale ha una volatilità di 8 punti percentuali in meno rispetto all'obbligazionario, che è l'ETF con minore volatilità. La frontiera efficiente nella linea tratteggiata rappresenta un insieme di portafogli che offrono il massimo rendimento atteso per ogni livello di rischio assunto. In altre parole si tratta di trovare la combinazione ottimale di asset all'interno di un portafoglio che massimizzi il rendimento considerando il rischio, a parità di rischio. Qui si evidenziano due triangoli, quello verde che rappresenta il portafoglio a volatilità minima, quindi il punto più a sinistra della frontiera efficiente, mentre quello rosso rappresenta il punto con maggiore Sharpe Ratio, quindi con più alto rapporto rendimento-rischio. I punti di vario colore a destra della frontiera efficiente rappresentano 10.000 diverse combinazioni di portafogli con diverse locazioni. Più il colore del punto è blu scuro, più alto è lo Sharpe Ratio. A sinistra abbiamo i pesi di ciascun ETF considerando i punti di massimo Sharpe Ratio e minima volatilità, che rispettivamente hanno un 53% di azionario e 40% di obbligazionario, mentre per il punto a minima volatilità un 37% di azionario, 43% di obbligazionario e 19% in oro. Il problema di questo calcolo è che è autoreferenziale, nel senso che l'ottimizzazione si fa sui dati passati. In realtà, per avere una stima del rendimento reale, si proietta l'ottimizzazione fatta sul passato nei mesi successivi. Quindi, considerando gli ultimi 20 anni, quello che si fa per ogni mese è prendere i 12 mesi antecedenti e applicare il mese successivo l'allocazione che ha massimizzato lo Sharpe Ratio. Così viene fatto il backtest. Il set di dati su cui applicheremo questa strategia è un portafoglio di ETF che consentono una diversificazione opportuna. La selezione di questi ETF è il risultato di un'altra metodologia presentata in uno dei precedenti video, che vi metto in descrizione. Notate che questi ETF sono categorizzati in diversi cluster che definiscono il tipo di asset finanziario. In questa slide possiamo vedere la strategia suddivisa in fasi e dai parametri di cui è composta, che sono due, evidenziati in grassetto. Quindi abbiamo X ed M. X sono i mesi precedenti considerati per calcolare i ritorni medi e la matrice delle covarianze. Questi sono fondamentali per il calcolo matriciale che porterà il calcolo dell'allocazione del portafoglio con massimo Sharpe Ratio. Tali pesi per il portafoglio verranno tenuti stabili per M mesi. Un'ulteriore versione che ho creato unisce lo Sharpe Ratio alla strategia Momentum per cluster, di cui ho parlato nel precedente video, di cui lascio il link in descrizione. In sintesi viene applicata la strategia Momentum con i quattro parametri spiegati la volta precedente che mi portano a selezionare per ogni cluster un numero N di ETF. Sarà proprio su questi N ETF per ogni cluster che verranno considerati per applicare e identificare il portafoglio con max Sharpe Ratio. In questa slide si vede un esempio di output che abbiamo già visto nei video precedenti. Si confronta quindi l'approccio misto tra Momentum e Sharpe, che è quel chiamato Sharpe cluster, l'SP500 e un approccio meramente basato sullo Sharpe Ratio. Si nota come il rendimento analizzato tra l'SP500 e la strategia cluster è molto vicino. La differenza però la gioca lo Sharpe Ratio, che nella strategia cluster è maggiore di più del 50%. Il max drawdown è inoltre più contenuto, come il periodo di recovery, che passa da 2005 dell'SP500 a 900 giorni. La vera differenza in termini di rendimento si vede però sulla metodologia Sharpe che considera solo ETF azionale. Questa supera il 7,5% di rendimento analizzato. Vediamo tuttavia che il rischio è più contenuto dell'SP500 ma è maggiore rispetto alla strategia con cluster. Il massimo drawdown infatti è il meno 35% e il periodo più lungo di recovery è 1365 giorni. Il confronto in termini di rischio e di massima perdita è ancora più evidente in questa slide, dove nel grafico underwater si nota come nei periodi di crisi, tranne che nel 2016, l'SP500 ha avuto la perdita più importante e che la strategia con cluster ha avuto la perdita più contenuta. Interessante notare che entrambe le strategie nei momenti di crisi più importanti escono dal mercato e si spostano in liquidità. Questo è evidente quando la linea diventa piatta e quindi non c'è più volatilità, dovuto al fatto che in quel momento viene tutto liquidato. A destra si vede in rosso il confronto di queste due strategie, considerando i 5 peggiori periodi di drawdown. Si nota quanto i periodi di recovery della S&P500 siano più lunghi. Inoltre si vede come lo sharp ratio applicato alla sola componente azionaria ha già recuperato il calo del 2022. Se poi confrontiamo l'allocazione di portafoglio delle due strategie, notiamo come la strategia con cluster sia maggiormente diversificata, in quanto sono maggiori gli etf selezionati per la strategia. Da notare la differenza di allocazione nel periodo covid. Infatti la strategia cluster ha avuto un'allocazione a partire da marzo 2020 molto spostata sui bond a breve termine, che è l'etf SHY, perché chiaramente le azioni nel periodo precedente stavano colando a picco. Questo però ha generato un tempo di recovery più lungo, proprio perché un'esposizione azionale in quel momento avrebbe garantito una crescita molto più rapida. Vediamo invece come l'allocazione in etf tecnologici a maggio 2020 nell'altra strategia ha permesso di recuperare in pochissimo tempo. Vediamo che un fenomeno simile sta accadendo ora, quando la strategia con cluster si vede oggi allocata con una quota importante in etf difensivi al 40% e 12% in oro, mentre la strategia con solo azionario è al 60% in tecnologia e 40% in energetico. L'obiettivo del prossimo video sarà quello di creare ulteriori strategie per poi confrontarle tutte insieme. Spero di nuovo che questo possa essere stato un video utile. Scrivete nei commenti per qualsiasi dubbio, domanda. Grazie. 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 Grazie.